bene ragazzi benvenuti al mio canale benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui su bellcoops 3 e multiplayer andiamo sperando di non sclerare come altri code anche se la vedo dura e niente vediamo in deathmatch che ci sono più persone sperando di trovare player appunto ok breach come vedete sono tutti a livelli bassi perché appunto il gioco è appena uscito non sono tutti schifosi nerd di fortuna a parte quelli di livello 24 stronzo se più avanti di me vediamo se entrano giocatori quindi ci sarà un'attesa abbastanza lunga mi sa che si devono muovere altrimenti iniziano gli scleri dai ecco vabbè si è arrivato il secondo il nome colorato dai metro 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 che bella il metro abbastanza bella mai voli c'è gente che appunto c'è già è l'unico è sempre quello stronzo a livello 20 qua ecco quello 29 ma che cazzo il simbolo ha vai di là vai di là non posso andare sui giochi per tempo beh o magari oltre 25 cambiano simboli si parli di star muto non voglio visualizzare il profilo giocatore io devo parlare quindi tutto che cambia mamma mia non c'ho capito che come in black ops 2 che cambiano le squadre a random e io ho appunto di fare un buon risultato per essere la prima partita e inizio a incazzarsi già mi stavo facendo incazzare il fatto della lobby che non trovava una lobby diversa da quello deathmatch a squadra adesso c'è un pochettino volume sperando che non laghi boh tre attacche quindi andiamo allora iniziamo a riasciare come maiali sicuramente qui passerà qualcuno bene ma mi sa che i server li hanno giustati perché ieri laggava merda proprio cioè non si poteva metti la tessolina vabbè se vuoi stare tutto il tempo là sopra stai arriverà il momento che ti pia e ti scanno ieri uno da qui l'ho preso nel wallbang quindi è fattibile no 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 cosa? vabbè già lì nell'angolino mi pare giusto certo suve ti porto anche la tenda ultima generazione fatti più ancora lì nell'angolino questo ma cos'è? ma mamma mia che pena che pena ma questi lì che cazzo li ha compra la flame mettere un sistema anticamper no mai ma che eh mo muori però ma vedi che star sempre lì non va bene sei ignorante cazzo almeno spostati e questo cosa che cazzo era? ah lui lancia i giavellotti che cazzo è la pokeball oh mamma mia allora è the best be 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 the best ma del tipo che i nomi sono per i ciechi no oh 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 Maria vieni giù aiutami scendi da quelle cazzo di nuvole Le cavallette Mamma mia No ma nessuno usa il super salto Nessuno usa il boost No ma proprio nessuno Strano che non ha saltato Faccia di merda Ma quello è sempre là Ma sempre qui Oh ma non si stacca Andiamo a fare Un po' fino con l'arco Mi dicono che Lo pegnavi con un colpo Con quell'aggeggio Bene Guarda le cavallette Cioè vabbè che io adesso Tipo voglio fare Matrix Sui muri Però Ogni due secondi Vedo gente che salta Sale tutto il cristianesimo Perché sui muri È fighissimo Almeno sui muri Riesce a prenderli Non quelli che saltano Questo ancora qui Ma ha cambiato posizione Un miracolo E chi l'avrebbe mai detto Finchè poi diamo lo spawn Lo spawn nemico Giustamente Guardalo là Guarda Ancora questo dietro Ancora questo Ma sempre qui È questo Ma cos'è Sempre qui Ma nessuno che lo vede Poi ero passato prima Non c'era Vabbè comunque Il lato positivo Che i server Non laggano come ieri Che davvero Il nemico davanti Si bloccava Tutto Ma se ti togli Ti togli Roppe i coglioni Ma che cazzo Poi io sento Tipo che si massacrano Ma non capisco Come non detto C'ho poca vita Soldato a riposo Scappa 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 Questo è l'unico stronzo Che non riesce a fare Il doppio salto La cavalletta Ma pure l'ultima Guarda qui Sto stronzo Salta su sto cazzo Salta Risultato 10-11 Oh mio dio Che vera Quello che Sto prendendo Un'altra cavalletta Ah Non si vede Quando lo hit In kick Ma proprio Fantastico Come a V Mi pare Che brutto Io dico Che cazzo Stavo sparando Alla cazzicana Invece non si vede l'hit Vabbè Per essere Prima partita Non è andato Proprio malissimo A parte che abbiamo Lo sgarrato Di una morte Ci crede Se a noi non camperava Con un maiale Io da Cazzo Angolino Vabbè Niente Direi che per questo video Per questa prima partita È tutto Non è andato malissimo A parte Un po' di nervoso Come tutti i conti Ti fa salire Nervoso Vero camper di merda Figlio di puttana Bene Niente Se a questo video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un like Per altri video Su Black Ops 3 Per supporto alla zombie Nulla Vi ricordo di lasciare un like Alla pagina facebook Di condividere il video Ai vostri amici E niente Bella